Se lo sono chiesti in tanti, appena appresa la notizia, si sta facendo una battaglia politica sulla realizzazione del ponte sullo stretto e poi si viene a scoprire che manca la copertura finanziaria, ma a stretto giro arriva la risposta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti guidato dal Vice Premier leghista Matteo Salvini. È ovvio che manchi la copertura per il ponte, sarà reperita con la legge di bilancio come sempre avviene per tutte le grandi opere inserite nella programmazione infrastrutturale del documento di economia e finanza. Così fonti miti spiegando che il DEF è un documento di programmazione e non distanziamento di risorse, facendo anche presente che non c'è ancora nemmeno la società ad hoc. Poi prende la parola Salvini che in un'intervista rilasciata a Gazzettino dice Il ponte sullo stretto di Messina è qualcosa che l'Europa ci chiede e che ci aiuterà a realizzare. È una delle tante priorità, come l'alta velocità fra Brescia, Verona e Vicenza, come la Gronda di Genova, come la Napoli-Bari, come la Pedemontana-Veneta che si avvia a conclusione. Sto investendo, sottolinea Salvini, più di 20 miliardi di denaro pubblico per accelerare i treni fra Palermo e Messina e Fra Salerno e Reggio Calabria e senza ponte questi 20 miliardi non sarebbero utilizzati in maniera intelligente. L'obiettivo è partire con i lavori entro l'estate prossima, conclude il leader della Lega che nei prossimi giorni dovrebbe regarsi al Sud per incontrare i presidenti delle regioni di Calabria e Sicilia, proprio sulla questione del ponte sullo stretto.